È una svolta epocale in quanto il precedente piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Treviso ormai ha già 26 anni. Era ora di riaggiornarlo, rimodularlo ex novo. Si chiama PEBA, ovvero Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del nuovo strumento adottato da Casugana per rendere la città più inclusiva. L'obiettivo è quello di garantire il diritto all'accessibilità delle strutture pubbliche a tutti i cittadini guardando ogni forma di disabilità, compresi i disturbi dello spettro autistico. Ci sono le disabilità di tipo cognitivo e di tipo sensoriale che sono figlie della nuova concezione di inclusione. Quindi un attreviso del futuro deve essere un attreviso che sa rispondere puntualmente a questo tipo di esigenze. Il piano è stato adottato dalla Giunta ma prima di arrivare in Consiglio passerà per una fase di concertazione con la popolazione e sarà consultabile online e presso gli uffici comunali. Siamo disponibili a fare gli approfondimenti, quindi è il momento in cui raccogliere, vedere le singole proposte e poi fare a settembre, entro metà settembre, le osservazioni affinché poi il Consiglio Comunale possa approvare un documento che è patrimonio di tutti. Anche per questo la pianificazione ha allargato tutti i punti sensibili del territorio. Abbiamo fatto anche un'azione di rilevazione di quelle aree urbane di prossimità, in prossimità ai edifici di servizi, non di proprietà comunale, ad esempio pensiamo alle poste, alle farmacie, agli ambulatori, quindi tutti gli spazi che sono di utilità pubblica. Il piano prevede decine di interventi da qui ai prossimi dieci anni, in parte già condivisi con le associazioni dei disabili, definito anche il piano finanziario. Saranno circa 5 milioni di euro che abbiamo visto nelle varie schede progettuali dell'edificio e dei percorsi che dovremo trovare e investire nell'arco di dieci anni.